Edizione inusuale, quest'anno la dodicesima per il premio letterario nazionale Zingarelli che si tiene ogni anno a Cerignola, nel Poggiano. A causa dell'emergenza coronavirus la manifestazione si è svolta in diretta sui social. Ad annunciare i vincitori sono stati il presidente del premio da Dario, il direttore artistico di Bari e Roberto Russo. Un'edizione anomala ma che di certo non può cancellare anche chi con passione e temperamento scrive parole di poesia e corona emozioni nello scriverle. I premiati per la narrativa edita Vittorio De Martino con la lente, a seguire Peter Schutt con la belle vide ed Enrica Mambretti con l'impida e la sera. Per la poesia inedita e vince Elisa il vento liberatore con la poesia e leggia di un precario a seguirete a Paolicelli se vuoi incontrarmi e Antonio Biancolillo tacita pioggia scura. Premio speciale assegnato dalla organizzazione del premio alla presidente della giuria Rita Librandi, a Onofrio Giuliano presidente Galtavoliere, al maestro Rosario Mastro Sergio e il professor Luigi Raitani ordinario di letteratura tedesca all'università di Udine e il professor Treifone Gargano docente di lingua e letteratura italiana. Premio speciale della presidente Librandi alla scrittrice cerignolana Sara Ciappardoni. Ascoltiamo cosa ha detto il direttore artistico del premio Tommy Di Bari.